Social Podcasting. Your Digital Friends. Le poesie di Alma. Amiche e amici di Social Podcasting, sono Luca Gamberini e di Roberta Borgia, dalla sua raccolta L'Ignocenza dell'Ombra, edita da Il Convivio Editore, vi leggerò Allo Specchio. Eccoli i miei occhi, che cercano formule, bizzarre, e tu, poeta, o che aspiri ad essere tale, chi sei se non muti appresso il tempo, o non senti il miasma del fuoco sui libri, o cavalchi impietoso sulle incertezze dell'amore? Allo specchio, la terra sembra piatta, voltati, gli occhi chiusi, sotto i piedi è grasso o secco, o sporco di un asfalto che brucia. Senti il vuoto e cadi, sei poeta, non sei mago, non predichi visioni illusorie, sei tu per primo, in mezzo al mondo. Social Podcasting, your digital friends.